Ciao a tutti ragazzi, rieccoci. Ho notato che non abbiamo il comandante, non so per quale abbiamo un motivo, ed è stato sostituito da questa truppa, quindi praticamente questa qua dobbiamo tenerla indietro. Ma nel caso fosse così, gli bloccherò. Per quanto possibile farò quello che posso. Non siamo fermi? Non, non, non ci sono la fiamme. Chiamiamo che! Siamo con testa! Bill, bella! Per i Ancestors! Per i Ancestors! Per i Ancestors! Per i Ancestors! Guardiors! Shieldbearers bow! Cannon! Kazook! Hold it ammunition! Dwarf Warriors! Move! come si è pronto Kaza Kain, Kaza, non è possibile c'è male e poi riusci che è riusci 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 vabbè Dewey Maxman! Cannon! Sarm! Wanderers! They have wronged us! Wanderers! Vegians! Dwarf Warriors! Dwarf Warriors! Dwarf Warriors! Dwarf Warriors! Sono davvero troppi ragazzi. E faccio fatica a tenermi questi. Dwarf Warriors! Dwarf Warriors! Dwarf Warriors! Fondvad hört! Dwarf Warriors! CPU- Bulk coefficients nein进 전 crost. I pass you, Kaman! Thunders! Dwarf Warriors! Tadawi are ready! Dwarf Warriors! Anu! Come on! Kill him! Bring them down! Thunderous! Dwarf Warriors! Castle? Dwarf Warriors! Works! Add him! Light of uptime! Strike out! Now throw the damage! Move! Vengeance! Blow through! Thunderous! Here we go! For the Kalazontore! Zaw! Yes! I as you command! Bring them down! Vengeance! No! 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 Dwarf Warriors! Dwarf Warriors! Non faiere! 4 out! Down! Minus! Yes! Yes! Put the range for! Range first! Go! Pull out! Vengeance! Withdraw! Killers! Shoot! Cannon! Yes Lord! Pull out! Dwarf Warriors! Anul! Wunderers! 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 Bring out the axes! Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! Pull out! Let the vengeance begin! Come on! Come on! Come on! Come on! Eh vabbè! C'ho provato ragazzo! Niente! Perlomeno! No! Ni ho portati via un bel po! Cazzo! Mi hanno taggato in due! Time for the reckoning! Sconfitto onorevole! Infatti! Non vorrei dire! Noi ci sono un paio di tempo. Ma questa è una cazzo di forchezza E vorrei comunque farcela qua Ma questa è presunto di forza Anche se è meglio prima eliminarci questo qua Vabbè, cioè è lì ma non l'ho fatto Allora, l'altro mio esercito quindi che da qua è stato andato male Perfetto Perfetto Attenzione Chi sono questi crocci? Oddio Livello 18 per tutto questo Ah, ok È l'orco Quello che stavo combattendo Ok, ok Perfetto Così, faccio vedere anche un po' queste unità che lanciano le Ashe Perfetto 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 Allora Perfetto Aspirazione Andre Molto bene Vediamo Non si muovono? Vabbè allora vi peresaglio io tranquillo Se non è il momento che vada la montagna La montagna è che va da momento Per i Ancestorsi 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 Oh, ho fatto abbastanza meglio. Oh, ho uscidettolo però. Che cazzo! Mi piace contro tutte le cariche. Io pensavo che tiravano le asce, non che tiravano delle mine, cazzo. Vabbè. Va bene, va bene. Oh, scello. Va bene ragazzi, ci vediamo drittimente. Alla prossima puntata. Oh, scello. 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 Scusate un attimo. Ok ragazzi, comunque ci salutiamo, ci vediamo alla prossima puntata in cui faremo fuori i cookie di merda. Scello. Ci vediamo alla prossima. Ci sono degli uccelletti e dei falchetti. Va bene, alla prossima. Ciao. Ciao.